Bentornati ragazzi, io sono Waysplash e sto mangiando una caramella per la gola Oggi riproviamo con Bambo the Inble Ah, mannaggia Ok, riproviamoci Beh, all'inizio ce l'abbiamo giocata bene a dire che Allora, qui, fra pochissimo Iniziano a volare, ecco, lo sapevo Allora, perfetto Poi Mi viene da piangere Ah, ok Tanto non riusciamo mai Ad allineare i cuori Vediamo che possiamo fare Altro Non ne ho idea Qua, ossa, ossa Niente, mi sa che un colpo ce lo prendiamo Vabbè, ci prepariamo l'attacco per dopo Eh, peccato, un altro colpo Potevamo magari avere la mossa speciale Quindi Si è bugato il gioco Ah, ah, ok Un altro movimento Fantastico Non me l'ero accorto Bene Adesso Abbiamo altri due movimenti Perfetto Perfetto Ok E iniziamo la mattanza Allora Uno Due Poi Vediamo Cosa mi manca Cosa mi manca Vabbè Ah no Un altro movimento Addirittura Che blocchiamo uno di loro Questo si sta preparando ad attaccare Quindi Vabbè Direi che è finita Vabbè Vabbè Ho preso colpi Quindi Passano i transatlantici Allora 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 Questo Me lo preparo Per dopo Fine Ok Flawless victory Un prime One random enemy Gain mana Equal to most common Tile Proviamolo Dovrebbe Facci guadagnare Mana Uguale Al tile Più comune Allora Allora Quindi Vabbè Ho bisogno di mana giallo Quindi direi che Perfetto 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 Ah Esploso direttamente Perfetto Poi 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 Perfetto Poi Perfetto E' Perfetto Perfetto Poi Perfetto Perfetto poi è una cosa molto pericolosa ha addirittura applicato una mozza speciale sono stati tutti non dati allora vediamo che succede che effettivamente la cacca mi ha parato allora facciamo così perché lui è ancora lontano mi sa ah mi ha colpito non capisco ancora non capisco bene le prospettive di questo gioco allora dovrei però è sentito ok iniziamo a colpirne uno oh e mo adesso sono cavoli sto a fare così me no no non l'ho fatto fuori non so me lo preparo per dopo ma ahia non è stato molto carino da parte vostra ok poi vediamo che posso fare non sto facendo niente in questa sessione ehm non ho proprio niente mana ah questi ruba è vero questi ruba nel mana potrei per esempio potrei per esempio poi con una mossa molto astuta colpire lui poi fare così mettere ok una difesa poi magari recupero mezza vita no e la chiedere troppo chi è che è rimasto chi è che è rimasto uh vediamo cosa possiamo fare altro ok un altro movimento addirittura poi fare così yes vediamo è rimasto qualcos'altro potrei per esempio che è rimasto ah volevi è rimasto un solo punto di vita io potrei per esempio andarmi a cercare andarmi a cercare un altro cuore per esempio perché qui ok quindi posso giocarmela un attimo in questo modo ok prenderà il pro movement e poi al prossimo turno rompere tutto e guadagnarci mezzo cuore penso forse e addirittura e addirittura che ora mi serve solo un'altra combo e potrò recuperare un altro mezzo cuore quindi vediamo se riusciamo a pisciarlo ok 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 si sto perdendo tempo lo so però voglio pisciare quel cuore in più finiamo il turno ok blocchiamolo e finiamo il turno perfetto dai giove questo cuore ah mi è rimasto un altro movimento ok finiamo il turno non avrei dovuto fatto cose un po' casacce allora quindi no finire il turno dai dov'è questo cuore dobbiamo cercare di prendere i denti ah eccolo cavolo cavolo perfetto ed ecco che recuperiamo un altro cuore mezzo cuore e vabbè finiamo da qui almeno ci siamo curati abbiamo perso un sacco di tempo però ne valza la pena più due movement plus one mana of each color potrebbe servirci ok adesso siamo pronti siamo già abbastanza in difficoltà però posso fare così no sbagliato maledizione perfetto perfetto beh perché non mi fa mettere ok ok che ho fatto ho sbagliato mi sa che ho sbagliato eh sì ho sbagliato ah però se faccio così yes datti calmino perfetto oh andiamo con questi attacchi ottima combo poi perché mi è costato ok ok eh eh vabbè cacca e cacca sia addirittura ok blocchiamo lui poi perfetto adesso sì se li facciamo malissimo ehm perfetto allora andiamo un altro colpo ed è andato questo è stata proprio un'ottima strategia devo ammetterlo lowers lowers charge of item no perché non abbiamo ancora item con la carica quindi io preferirei essere mobile ma come bambode nimble allora vediamo che c'è qui come al solito il gambling allora per tutto la ruota fortuna poi riroll spell a questo costa una moneta e poi direi ok e non abbiamo altro quindi come si esce da qui exit andiamo a livello 2 abbiamo più fortuna adesso la fortuna forse è quella che ci fa vedere ci fa uscire le stelline o i cuori penso allora quindi cosa sono questi allora quindi facciamo così 2 4 6 e adesso ah uno è morto già perfetto ah addirittura resistito allo spell vabbè addio ah proprio non si fa niente vabbè allora sicuro loro tirano a distanza quindi wow sciottato allora potrei per esempio ok addirittura ma praticamente posso andare all'infinito ah ma adesso non cambia niente perfetto e non si fa niente spell resisto e come devo fare faccio questo lo blocchiamo e poi vabbè finiamo il turno aiuto questi si muovono male lecce lui è vulnerabile ok è un simbolino è vulnerabile solo ai puzzle attack ecco allora possiamo posso fare un attacco però ok tra poco c'è un dente quindi è niente inutile perché tanto non si fa niente allora potrei per esempio fare così aspettare il prossimo turno e fare questa è bellissima yes distrutti bloc the next two attacks o attack attack plus adds two tile e mana direi che è meglio questo dato che siamo così indipesi oddio che sono questi allora eh poi ok allora lui sta proprio avanti quindi lo blocchiamo allora se hanno quella crocetta in testa vuol dire che sono ehm hanno più di un'azione addirittura oddio eh mo mi sta venendo il panico adesso mmm potrei fare così e poi fare una doppia combo ok still ready vediamo ok ok ah questi ok quando vengono colpiti rimangono rimangono bloccati per un turno perfetto perfetto ok uno è morto eeeh andiamo di ok muco così così lo attaccano poi non so per quanto posso andare avanti ok lui lo uccidiamo perché tanto vediamo se riusciamo a prenderci una bella gocciolina mmm che c'è rimasto un solo movimento quindi e ci allineiamo questi queste ossa ok adesso ok 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 perfetto ok ok perfetto vai ottimo ok 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 abbiamo due colpi d'ago quindi direi di colpire loro due perfetto che c'è rimasto nooo addirittura addirittura vabbè miso ovviamente perché è bloccato dai rimuoviamo dai rimuoviamo finiamo questo turno e ci prepariamo un bell'attacco per dopo dai 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 non è finito ancora perché sto allineando i cuori se non sono ferito vediamo nooo e vabbè e vabbè ok abbiamo finito dai scendi giù mi stai annoiando finiamo il turno ok adesso ti becchi due attacche fine fine ora ora posso fare così aiuto vabbè hanno uno di vita quindi ah ma sei andato giù qual è il problema oh questi sparano allora prendiamo quattro denti poi posso ah un tile da distruggere per forza ormai e maledizione ok facciamo così facciamo così ok allora blocchiere quello lì ok blocchiamo anche lui ok blocchiamo gli attacchi che io non vorrei che quelli tornano perché l'ho fatto ok ok perfetto ah sono morti tutti ok bene direi che possiamo finire con questo turno no potrei fare così proprio così poi ammazzo lui perfetto vabbè lui non è non è disponibile quindi niente fine turno teniamoci a spero per dopo tanto facciamo cinque danni shottato carino carino oh questo è il nuovo shagull unmask and smash quindi devo rompere le maschere penso come faccio come faccio qui proviamo ah ok ok quindi una è un'illusione credo più schiavola dai ah più azioni non so che fare posso fare questo resisti ah gli ho levato la maschera ok colpiamola posso fare questo ok aia ok abbiamo trovato quella vera quindi poi vediamo ok ok mi sono scordato appunto che dovrei bloccarlo allora abbiamo nove abbiamo nove e denti aiuto e mo quale ecco ecco mi ha sorpreso perché non sapevo proprio potesse fare questo ok blocchiamo lui mo mi ah resiste ok lei è sempre lei forse ah perfetto abbiamo vinto wow da adesso sì ragazzi per questo episodio è tutto quindi vediamo il nuovo finale ricordatevi di lasciare un like commentare e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto noi ci vediamo alla prossima a presto a presto Grazie.